La terza ondata Covid sembra investire in pieno la provincia di Teramo. Salgono i ricoveri, solo ieri sono stati 14, che si aggiungono ai 142 e i contagiati hanno tra i 50 e i 60 anni. Dunque 156 ricoverati ad oggi, anche se va ricordato che al Mazzini sono stati trasferiti alcuni malati da Pescara e Chieti. Numeri importanti che hanno indotto l'asla di Teramo ad adottare dei provvedimenti per rispondere tempestivamente a un eventuale ulteriore mutamento della situazione. Il gruppo di lavoro coordinato dal direttore generale Maurizio Di Giosia ha deciso che per il momento nei quattro ospedali teramani saranno garantiti solo i ricoveri urgenti e che si procederà esclusivamente ad interventi salvavita o su patologie oncologiche. Viene invece garantita come di routine l'attività ambulatoriale con un ulteriore innalzamento delle procedure di sicurezza. Intanto le misure di contenimento del focolaio attivo da una settimana all'ospedale Mazzini forniscono risultati confortanti. Sono solo due i nuovi contagi registrati emersi dai tamponi eseguiti giornalmente nei reparti con pazienti positivi e ogni tre giorni negli altri per un totale di oltre 500 tamponi. Sul fronte delle vaccinazioni intanto nella giornata di domenica nella sala ipogea di Teramo sono stati effettuati i vaccini al personale scolastico e dell'università. Dovevano essere in 600 come stabiliva il crono programma delle prenotazioni ma per un disguido si sono presentati 424 docenti in più. Si è purtroppo formata una lunga fila all'interno del sottopassaggio che porta al salone interrato dell'ipogeo con qualche assembramento di troppo. La buona notizia è che sono stati vaccinati tutti, 1024 tra docenti e altre figure del mondo della scuola. Intanto Teramo Città riprende oggi per terminare domani la vaccinazione degli over 80.